Allora, perché secondo me lei fa un personaggio che è anche un po' de modè, artefatto, pieno di prosopopea, di arroganza, di protagonismo. È un personaggio, secondo me, che non ha senso. Non c'è un essere donna, un essere anche affettuosa. Lei semplicemente vuole essere ovunque, in ogni momento, protagonista, anche protagonista a sproposito. Valeria è un'estroversa, è una che ama la vita, ama relazionarsi con le persone, quindi è anche normale questo atteggiamento. Secondo me è un atteggiamento istrionico, autocelebrativo, completamente fuori da qualsiasi realtà accettabile. Mi sembra un ragionamento, il tuo, sufficientemente chiaro, che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni o introsprezioni. Valeria, ti vieni tacciata di essere un po' fanè, un po' antica nel tuo divismo. Come rispondi ad Antonella? In tutto questo io mi diverto troppo a Risside. No, no, rispondi ad Antonella, Risside poi verrà dopo. Non sviare dal discorso perché con me non attacca. No, perché sai cos'è? Che secondo me i suoi giudizi non contano niente. Perché non contano niente? Perché no, perché da quando è qua dentro ha parlato e ha detto delle cattiverie nei miei confronti, non so se ti ricordi quando io sono venuta.